Banche, poste, assicurazioni, telefonia, energia, carburanti, professioni, farmaci. C'è tanta carne al fuoco sul DDL Concorrenza e i lavori procedono a rilento con oltre 1600 emendamenti da esaminare alla Camera. Sembra sempre più probabile che si rimandi tutto quasi a settembre. La stessa sottosegretaria allo sviluppo economico, Simona Vicari, pur ribadendo l'intenzione di chiudere almeno nelle commissioni prima della pausa estiva, non nasconde le difficoltà. La commissione ha ribadito l'intenzione di tentare di chiudere il provvedimento entro la seduta la pausa estiva. Credo che però i lavori molto ferrati dell'aula, essendoci dei decreti da convertire, non credo che consentiranno questo tipo di attività. I relatori, Silvia Fregolent e Andrea Martella, entrambi del PD, hanno presentato un pacchetto di proposte che riguardano le assicurazioni, l'energia, le professioni, le farmacie. I primi articoli del DDL sono sulle assicurazioni. Sulla possibilità di scegliere il carrozziere liberamente, che era un po' vincolata da una scontistica che non ci sembrava opportuno. Abbiamo chiesto che la scatola venisse messa, ma con delle garanzie di trasparenza. Per quanto riguarda la impossibilità di cessione del credito, non ci è sembrato opportuno modificare il codice di procedura civile. E poi stiamo analizzando con molto interesse e con molta attenzione l'articolo 7 sulle tabelle assicurative, chiedendo al governo il più possibile ci sia vicini ai principi che hanno sancito le tabelle di Milano. Critico sul DDL è il Movimento 5 Stelle, secondo cui il provvedimento è un regalo alle banche e alle assicurazioni. Per Alessio Villarosa se ne riparlerà a settembre. In aula non arriverà sicuramente. Loro vorrebbero chiuderlo in commissione, ma a parer nostro non riusciranno neanche a chiuderlo in commissione. Ancora siamo al primo emendamento oggi. Abbiamo cominciato a votare il nostro primo emendamento che chiarisce e semplifica il titolo, perché anziché parlare di tutela del consumatore, parla, come a parer nostro questo decreto, di tutela degli utili, delle banche e delle assicurazioni. Anche Forza Italia boccia molte misure del DDL. Katia Polidori. È un decreto anomalo, perché mette tutte le categorie gli uni contro gli altri. Quindi ci si trova a difendere categorie contrapposte. Quindi bisogna veramente entrare nell'insieme. Ci si trova a difendere le assicurazioni e ci si trova a difendere i carrozzieri. Ci si trova a difendere le banche, ma anche le agenzie immobiliari. Tra gli emendamenti presentati dalla Polidori, uno vieta alle banche di detenere qualsiasi partecipazione nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare. Siamo in un momento di crisi economica particolare, quindi direi che la concorrenza fa molto bene al sistema paese, al sistema economico. La liberalizzazione pure, Forza Italia, è sempre stata a favore, ma dobbiamo stare attenti e fare in modo che si tratti di concorrenza leale, non concorrenza sleale. Le banche in questo caso avrebbero a disposizione una banca dati diversa da quello che può avere il piccolo imprenditore di un'agenzia immobiliare. soprattutto le banche di solito aiutano, stanno a fianco dei piccoli imprenditori e invece in questo momento gli farebbero concorrenza. Ma poi la cosa più grave è che non ci sarebbe più trasparenza, perché comunque una banca che fa anche d'agenzia immobiliare suggerirebbe in qualche modo al proprio cliente la vendita, l'acquisto di un immobile, passando attraverso un mutuo che facesse capo ovviamente alla propria banca.